Musica Buona domenica e bentrovati al consueto riepilogo dei fatti principali della settimana. Cominciamo da lunedì 29 luglio. A Palermo è stata deposta una corona dall'oro in via Pipitone Federico per ricordare il 36esimo anniversario della strage in cui persero la vita il giudice Rocco Chinnici, i carabinieri di scorte il maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile Stefano Lisacchi. Vediamo il servizio. Sul campo dell'antimafia è cambiato davvero tanto, tanto. È servita anche questa strage che ricordiamo oggi, il sacrificio del consigliere Chinnici. È servito tanto anche per svegliare le coscienze. Poi a seguire anche la strage di Capaci, di Via D'Amedio. E purtroppo, devo dire, queste morti ci sono servite a questo. Ma per quanto riguarda la lotta alla mafia, io non faccio retorica. La mafia non l'abbiamo sconfitta, ma comunque abbiamo vinto tante battaglie. E anche la presenza di tanti, vedo che stamattina a distanza di 36 anni un bel po' di persone, anche questi ragazzi, è una battaglia vinta anche da loro. La intuizione di Rocco Chinnici poi è diventata realtà, si è fatta processo, si è fatta condanna, si è fatta consapevolezza che l'organizzazione criminale è un'organizzazione che può essere sconfitta soltanto attraverso un'organizzazione alternativa, quella del PUL, la grande intuizione del PUL. E oggi ricordare Rocco Chinnici e poter dire a lui missione compiuta, perché se oggi Palermo è cambiata, si deve anche al suo sacrificio e a quello di quanti con lui hanno perso la vita in quel terribile 29 luglio del 1983. E' bello apprezzare tanta partecipazione poi alle manifestazioni commemorative, si può dire quindi che la morte unisce, indubbiamente, che fa riflettere, indubbiamente, e che invita gli altri a stimolare un po' di più la propria sensibilità e a ricercare nel concreto, prima ancora che uno cada, quel qualcosa che serve per dare la mano all'altro perché non cada. Carabiniere, se Carabiniere è vero, vive con pudore la gloria come la sconfitta. Io penso che se in questo momento dovessero comparire qui dei criminali e dovessero sparare a qualcuno, giustamente sparirebbero a noi. Non è giusto morire a trenta e pochi anni in più accoltellato da un folle, ma se guardiamo anche indietro nel passato i Carabinieri hanno sempre le forze di polizia. Coloro che hanno vestito un uniforme in un certo modo hanno sempre rischiato in questo modo. Anche qui è bello vedere tanta solidarietà, tanta partecipazione. Per un qualcosa che il Carabiniere, ripeto, vive con pudore, silentemente, non si esalta. È giusto che lo faccia, è giusto che sia lui a pagare. Sarebbe giusto se tutti ci dessimo un po' una... ripensassimo un po' a come viviamo, meno indifferentemente. Parte in Sicilia il piano degli interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere relativo al 2019-2020. Il via libera è arrivato dal governo Musumeci su proposta dell'assessore alle politiche e sociali Antonio Scavone. A disposizione ci sono 3 milioni di euro destinati a garantire assistenza e sostegno alle donne vittime di abusi e ai loro figli minori, attraverso aiuti nei settori psicosociali, sanitari e culturali, finalizzati a prevenire, contrastare e monitorare il fenomeno. Il programma, evidenzia il presidente Musumeci, mira ad avviare una stretta collaborazione tra la regione e tutti gli attori pubblici e del privato sociale coinvolti nella gestione del fenomeno. Il nostro principale obiettivo è di garantire adeguata protezione alle vittime attraverso la loro presa in carico da parte dei centri antiviolenza e laddove necessario l'immediata ospitalità presso strutture di accoglienza e indirizzo segreto, ma anche quello di promuovere la cultura del rispetto della persona attraverso percorsi di prevenzione e di informazione. Le risorse saranno destinate per una parte, 800 mila euro, a contribuire alla gestione e al potenziamento dei centri antiviolenza già esistenti. Un altro milione e 101 mila euro servirà invece alla creazione del fondo di solidarietà per le spese di gestione e in parte al pagamento delle rette di ricovero. Infine un altro milione verrà utilizzato per il potenziamento di 31 sportelli di ascolto e per l'istituzione di 15 nuove strutture di accoglienza e indirizzo segreto e per l'implementazione dei servizi. All'interno del piano approvato dalla Giunta, aggiunge l'assessore Scavone, particolare attenzione è stata rivolta al sostegno psicologico, educativo e legale da offrire alle donne vittime di violenza, che spesso vivono la loro situazione di disagio in una condizione di assoluta solitudine. La regione siciliana finanzierà la prosecuzione degli scavi archeologici nel sito di Tusa per iniziare a riportare alla luce il teatro antico scoperto l'anno scorso. Vediamo. La regione siciliana finanzierà la prosecuzione degli scavi archeologici nel sito di Tusa per iniziare a riportare alla luce il teatro antico scoperto l'anno scorso. Lo ha annunciato il governatore Musumeci, che ha compiuto un sopralluogo nel centro nebbroideo del Messinese per conoscere lo stato dei luoghi. Metteremo subito a disposizione, ha evidenziato, un primo finanziamento di 200 mila euro. Il mio governo punta molto sulla tutela e sulla valorizzazione dei reperti archeologici dell'isola. Dobbiamo, da un lato, procedere con la campagna di scavi, dall'altro migliorare la qualità dei servizi per rendere il sito più accessibile e attrattivo per i turisti. Ho trovato una grande dignità in questo luogo, soprattutto nell'antiquarium, e ho voluto ringraziare il personale per l'impegno e per la passione che mette nel proprio lavoro. Sono convinto che tutti insieme potremo trasformare il posto in un'area di grande richiamo. L'ultima campagna di ricerca era stata avviata lo scorso 24 giugno, a condurla una missione italo-inglese presso l'area del santuario di Apollo e una francese presso le tre aree dell'abitato dell'antica città. Gli scavi, iniziati tre anni fa, a distanza di oltre 60 da quella che portò alla luce una parte del Lago Rà, il cuore politico-amministrativo ed economico, un'area sacra con i basamenti di due templi, sono divenuti ormai una consuetudine per le università e per il territorio che accoglie i componenti delle missioni scientifiche. Si svolgono grazie alla concessione rilasciata dall'assessorato regionale e beni culturali. con la partecipazione del Parco archeologico di Tindari, della soprintendenza peloritana e del comune di Tusa. Tanti dottorandi, gli archeologi e specializzandi degli Atenei di Messina, di Oxford e di altre città, oltre che studiosi di altri Atenei italiani e stranieri che hanno partecipato ai lavori. In particolare, in questa terza campagna di scavi è stato integralmente messo in luce un grande podio rettangolare di 46 metri per 18, alto circa 4 metri, in parte gradonato e realizzato con blocchi quadrati e blocchetti di pietra locale. Ai piedi del podio si sviluppava un'elegante pavimentazione realizzata con laterizi, in alcuni punti molto ben conservata. Le indagini hanno consentito di individuare anche la grande rampa di accesso che dalla via sacra della città conduceva direttamente alla sommità del podio, dove insistevano i principali edifici di culto del santuario. Martedì 30 luglio, in aula all'Ars arriva il collegato, 6 milioni di euro per musei, fondazioni e centri antimafia. 48 articoli con una spesa di 6 milioni e mezzo. Il collegato alla finanziaria esitato dalla quinta commissione arriva all'Ars. Al suo interno contributi per enti, associazioni, nascita di fondazioni, soldi anche per assunzioni e stabilizzazioni. Per Claudio Fava, deputato regionale del Movimento I Cento Passi, si tratta di una quarantina di articoli di varia natura, con una miscellanea di provvedimenti a volte di buonsenso, a volte indifferibili, ma spesso del tutto privi di qualsiasi logica e visione strategica. Benvengano, dichiara, le norme a sostegno dei teatri e delle manifestazioni culturali di eccellenza in Sicilia, o quelle a sostegno dei lavoratori di Almaviva. Ma fra questi viene una lunga serie di microinterventi da poche decine di migliaia di euro a favore di questo o di quel comune forte di sponsorizzazione parlamentare. Ovviamente ogni misura di sostegno al patrimonio storico, culturale ed ambientale della Sicilia non può che essere ben accetta, ma senza una visione strategica sono provvedimenti per Fava che serviranno a ben poco. Valuteremo, dice, caso per caso e articolo per articolo, provando a correggere alcune storture e provando ad inserire delle misure di carattere più generale e meno particolare. Per questo sono stati presentati alcuni emendamenti che riguardano una programmazione più ad ampio respiro, l'estensione docenti non di ruolo delle opportunità per i percorsi di formazione, interventi per la riqualificazione del personale dei call center, risorse per i comuni in condizioni di sesto per la tutela dei beni culturali, maggiori garanzie di assistenza per gli studenti con disabilità, l'abrogazione di alcune norme che rischiano soltanto di disperdere in mille rivoli le scarse risorse della regione. Reste in evaso il grande tema di una mancanza di prospettiva e programmazione delle poche risorse esistenti e di un continuo assalto ai pochi spiccioli disponibili. Un riordino di alcuni settori, sottolinea Fava, non può più essere rinviato, ad esempio per quel che concerne i giusti finanziamenti alle associazioni sociali, ai centri culturali che si occupano di antimafia e cultura della legalità e sul quale abbiamo già presentato un DDL apposito. Finalmente a Palermo arriva la carta d'identità elettronica, la comunicazione del Ministero dell'Interno. Dal prossimo 1 ottobre sarà possibile emettere il nuovo documento che però avrà un costo di gran lunga superiore a quello attuale. Finalmente a Palermo, così come annunciato, arriva la carta d'identità elettronica, la comunicazione arriva direttamente dal Ministero dell'Interno. Dal prossimo 1 ottobre sarà possibile emettere la carta d'identità elettronica che avrà un costo di gran lunga superiore a quello attuale. Si passa infatti da 5,42 euro a ben 22,20 euro, di cui 16,8 andranno al Ministero, mentre il duplicato costerà 27,35 euro. Gli uffici si stanno preparando a questa rivoluzione. Dallo scorso 20 giugno fino al 10 luglio è stata effettuata la formazione del personale dell'ufficio anagrafe, dello Stato civile, delle postazioni decentrate, elettorato e di altri uffici comunali che lavoreranno sulla nuova piattaforma anagrafe nazionale della popolazione residente. La carta d'identità elettronica sarà meno soggetta a usura rispetto a quella cartacea. Conterrà le informazioni di base, le immagini di due impronte digitali, un dito per mano, il codice fiscale, gli estremi dell'atto di nascita, l'eventuale comune di iscrizione per i residenti all'estero e sarà valida per l'espatrio. È totalmente realizzata in policarbonato e presenta ologrammi e micro scritture per garantirne la sicurezza. Adesso quindi è ufficiale. È stato sicuramente un percorso lungo e anche accidentato, ha detto il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, ma abbiamo preferito fare le cose per bene con una piena integrazione con l'anagrafe nazionale che renderà la carta d'identità elettronica non un gadget ma un vero e proprio strumento operativo per dialogare con la pubblica amministrazione e per accedere a tanti servizi digitali. Peccato per un costo di rilascio elevato che è legato però ai costi dell'infrastruttura curata dal Ministero dell'Interno. Si chiama Cambia Gesto, la campagna di sensibilizzazione che fino al 31 agosto coinvolgerà il litorale palermitano di Mondello. Vediamo. 800.000 tonnellate, il peso dei mozziconi di sigarette in tutto il mondo, un peso importante. Assolutamente, è un peso importante a parte il peso fisico e l'impatto ambientale che questi provocano. Questo deriva dal comportamento in Italia di milioni di persone, 12 milioni di fumatori che con piccoli gesti non si rendono conto dell'impatto che creano. Quindi questa campagna è volta proprio a cercare di far cambiare il gesto, sensibilizzare le persone, non colpevolizzare perché i fumatori sono abbastanza vaccinati alla colpevolizzazione quindi bisogna cercare di tirare fuori la parte migliore di loro, aiutarli anche nel comportamento con infrastrutture e alla fine è un impegno che ci dobbiamo mettere tutti per noi oggi e per le nostre generazioni future. Uno dei motivi che porta le persone a gettare mozziconi a terra perché dicono che non sanno dove gettarlo. Quindi dare a loro un posacenere portabile e sottolineo riciclabile è il modo per facilitare questo gesto. Questa campagna durerà per tutto il mese di agosto. Philip Morris è stata aiutata prima di tutto dal comune di Palermo, sensibile all'iniziativa e ha dato il suo patrocinio. Poi ci aiuta anche l'associazione ambientale Erika con cui stiamo lavorando sul tema dei mozziconi. L'agenzia creativa H+, che ha fatto la creatività della campagna e anche la società Push, esperti in economia del comportamento e come dicevo il comportamento è la chiave per risolvere il problema dei mozziconi. Parliamo un attimo di questo laboratorio che è nato a Palermo sull'ecosostenibilità. Sì, nasce un laboratorio nel 2013 a Palermo che si occupa di innovazione, design e sostenibilità. Perché? Perché Palermo è una città a margine fra il sud del mondo e il nord del mondo dove fare sperimentazione e fare attività di laboratorio reale, concreto sul territorio è un'opportunità. È anche vero che siamo tutti palermitani ma abbiamo girato il mondo e abbiamo visto comunque in questo una specificità del nostro territorio che andava sfruttata. Siamo come fosse un laboratorio di ricerca di un'università, in realtà è un'associazione privata, siamo una dozzina di ragazzi, ambiti molto diversi, da computer science a scienze umane e sviluppiamo e proviamo ad applicare progetti che vogliono avere un impatto sulla sostenibilità e sulla qualità della vita dei cittadini. Nel caso odierno si parla appunto di lavorare sui comportamenti delle persone ma nell'atto pratico come si può davvero cambiare il comportamento di una persona? È molto complicato e a tratti va sul manipolativo. Ovviamente quello che noi cerchiamo di fare è mettere delle lenti nuove di fronte agli occhi delle persone e fargli vedere la realtà in un modo diverso. Le abitudini non si cambiano, se ne costruiscono di nuove però quando ci si riesce evidentemente ha un impatto sulla lunga durata molto importante e effettivamente cambiando comportamenti individuali si riesce a cambiare la cultura di una città o di una popolazione. I Carabinieri del Rosso e del Comando Provinciale di Agrigento hanno seguito un provvedimento di fermo emesso dalla DDA di Palermo nei confronti di sette persone indagate per associazione mafiosa e concorso esterno in associazione mafiosa. Al centro delle indagini dei Carabinieri la famiglia mafiosa di Licata di cui sono stati delineati gli assetti e le gerarchie. Nel corso delle indagini sono state scoperte infiltrazioni nelle attività imprenditoriali in via di realizzazione dell'Agrigentino e il ruolo occupato all'interno della cosca da due massoni che erano maestri venerabili di due distinte logge. Il funzionario regionale Lucio Lutri che era stato maestro venerabile della loggia Pensiero e Azione del Grande Oriente d'Italia ed anche il figlio dell'ultimo capo mafia dell'Agrigentino, Vito Lauria era maestro venerabile della loggia Arnaldo da Brescia anche questa appartenente al GOI. Le indagini dei Carabinieri del ROS coordinate dalla procura distettuale antimafia di Palermo svelano una rete di affari e relazioni segrete. Sono sette le persone arrestate questa notte sulla base di un provvedimento di fermo disposto al procuratore Francesco Lovoi, dall'aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Claudio Camilleri, Calogero Ferrara e Alessia Sinatra. L'indagine ruota sull'Utri, funzionario regionale in servizio a Palermo all'assessorata all'Energia che è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Le intercettazioni raccontano che avrebbe messo a disposizione della cosca di Licata la sua rete di conoscenze nella pubblica amministrazione e nelle logge per consentire ai mafiosi aggrigentini di portare a termine i propri affari in vari settori. Scrive la procura di Palermo nel provvedimento di fermo l'associazione mafiosa ha avuto garantita dall'Utri la sua disponibilità e l'utilizzo di importanti canali massonici ottenendo la stessa associazione per esse singoli esponenti e la famiglia vantaggi consistenti ora nell'acquisizione di informazioni riservate circa attività di indagini al loro carico ora nell'interessamento di professionisti compiacenti e dipendenti infedeli della pubblica amministrazione. Incidente di Alcamo, la fidanzata di Fabio Provenzano rompe il silenzio con una lettera Amava i suoi figli, non giudicatelo. Ha deciso di rompere il silenzio la fidanzata di Fabio Provenzano il 34enne, padre dei due bambini, Francesca Antonino, 13 e 9 anni entrambi morti a causa dell'incidente stradale di Alcamo lo scorso 12 luglio. In una lettera scrive Non ho risposto a nessun insulto, nessun commento cattivo perché l'ultimo dei miei pensieri eravate voi adesso dico basta, dico basta al mondo intero dico basta ai giornali, basta alla cattiveria l'unica risposta che do sempre e continuerò a dare sempre è nessun genitore vuole il male dei suoi figli Amava i suoi bambini, ne hanno tutti approfittato per fare uno scandalo sappiamo solo noi quanto abbiamo sofferto e cosa abbiamo passato siamo esseri umani e sbagliamo, tutti, so che lui morirà quando saprà di questo incidente Quella sera del 12 luglio l'uomo poco prima dell'impatto aveva postato un video su Facebook ed è stato trovato positivo al test per le sostanze stupefacenti Nei giorni scorsi si è risvegliato dal coma ma ancora non saprebbe tutta la verità su quello che è successo Di certo c'è che è cosciente ma sedato molto agitato, come se in cuor suo sapesse Intanto la sua compagna che sognava di sposare quell'uomo e di vivere insieme ai figli di lui lo difende Quella sera non era drogato come tutti dite continua la fidanzata non ha mai voluto uccidere i suoi figli viveva per loro i giornali fanno il loro lavoro ma non sempre dicono, spiegano ciò che è vero Test positivo al secondo livello significa altro ma visto che siete così bravi a leggere fate come ho fatto io fate una ricerca su Google e vedete cosa significa il dolore della mamma il dolore mio, il dolore degli ziri, dei nonni sarà come quello che proverà lui quando si sveglierà A Ciminna la notte bianca arte, spettacoli e degustazioni per una serata inferdibile Le notti bianche sono un suggestivo viaggio alla scoperta del territorio e delle sue storie un modo diverso ed originale di trascorrere l'estate sabato prossimo a Ciminna una manifestazione che coinvolgerà tutti con i tanti appuntamenti in programma si inizia alle 21 con l'itinerario d'arte alla scoperta dei dipinti fiamminghi le chiese di Ciminna organizzata dall'associazione BC Sicilia alle 21.30 in piazza Umberto I degustazione di prodotti tipici con l'anteprima del Cudduruni Festival 2019 ed in piazza Umberto I la banda itinerante Samba Zita street band lungo la via Roma e di Ciminna Baskers artisti di strada con giochi per bambini alle 22 in via Roma presso la chiesa di San Francesco degustazione dei prodotti tipici pane e cunzato ricotte e formaggi tipici locali dalle 22.30 ancora animazione giochi per bambini e balli itineranti a cura della scuola di ballo e di danza Pasquita la banda itinerante Samba Zita street band lungo la via Graziano da Sicilia cabaret Stefano Piazza in piazza grande le interviste di Stefano Piazza a seguire cabaret la degustazione dei prodotti tipici festival dei sapori ciminnesi lo spettacolo One Music Show con il DJ set di Beppe Schillaci in diretta radio streaming su Radio One Cecilia Gale la regina del latino americano la manifestazione sarà presentata da Roberto Marco Oddo l'evento sarà ripreso dalle telecamere di Tele One Giovedì 1 agosto sfrattata la vecchia società sgombero forzato allo stadio Renzo Barbera consegna del terreno di gioco alla società Era Ora per l'utilizzo da parte della SSD Palermo Calcio Sgomberati gli uffici dello stadio Renzo Barbera a seguito del mancato adempimento dell'US Città di Palermo all'ordinanza emessa nei giorni scorsi dal sindaco Leoluco Orlando i funzionari, i tecnici e l'amministrazione comunale hanno fatto l'inventario di tutto quanto ancora presente all'interno degli uffici e provvederanno oggi stesso alla consegna del terreno di gioco alla società Era Ora per l'utilizzo da parte della SSD Palermo Calcio Sua disposizione del sindaco un inventario separato e specifico si sta facendo per quanto riguarda trofei, coppe e cimeli storici In viale del Fante quattro pattuglie dei vigili urbani più due autocivette e un furgone i dipendenti al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine erano in sede Lo scorso 26 luglio dopo l'assegnazione alla società Era Ora SRL dell'avviso pubblico comunale relativo alla manifestazione di interesse per l'iscrizione della squadra di calcio della città di Palermo al campionato di Serie D 2019-2020 il sindaco aveva firmato una lettera in cui invitava il dirigente settore risorse immobiliari ad assumere senza indugio ogni pertinente provvedimento di sgombero e di missione in possesso dell'impianto sportivo visto che il settore ha formalmente intimato all'OS Città di Palermo S.P.A. l'immediato rilascio dello stadio comunale Renzo Barbera poiché la società detiene l'impianto sportivo sine titolo risultando la data del relativo contratto di concessione ampiamente scaduta ed essendo venuto meno il necessario titolo sportivo nonché inutilmente decorso il termine assegnato alla società per la comunicazione della data di riconsegna dell'impianto E così oggi la Polizia Municipale si è presentata allo stadio Renzo Barbera per dare esecutività alla nota e riassegnare i locali alla nuova proprietà così come da sgombero notificato lo scorso 29 luglio Dimezzato il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle a Palazzo delle Aquile spulsi Giulia Argilorfi e Ugo Forello Otto giorni dalla comunicazione da parte del Collegio dei Probiviri che l'esito del procedimento disciplinare nei miei confronti ha portato alla mia espulsione ventilato perché mi era stato comunicato a marzo l'apertura del procedimento disciplinare ma in maniera diciamo più incisiva perché da mesi subisco una vengo di fatto considerata già espulsa qui a Palermo perché non mi si risponde al telefono da sette mesi né ai messaggi né alle mail né alle richieste fatte a voce di fatto si presentano due possibilità o i Probiviri hanno annunciato con grande anticipo e anche prima di farlo con la diretta interessata qualcuno qui a Palermo l'esito del procedimento oppure qualcuno qui a Palermo ha pensato di doversi fare giustizia da sé e ha anticipato e forse in qualche modo anche provocato l'esito di questo procedimento disciplinare Lei all'interno del Consiglio Comunale nel suo gruppo aveva sicuramente già qualche frizione c'erano già delle frizioni come in tutti i gruppi come è normale che sia ed è anche giusto che sia perché senza scambi senza confronti senza differenze di opinione non si cresce e non ha senso il gruppo allora si lavora da soli Lei Pocanzia ha detto ho fatto reclamo Sì ho presentato il reclamo entro i termini previsti dallo statuto del Movimento 5 Stelle cioè entro 5 giorni chiedendo il riesame al comitato di garanzia che è composto da cancelleri Crimi e Lombardi e che dovrà esprimersi adesso entro 10 giorni ho chiesto che venissero motivate le cause della mia esclusione anche in riferimento alla lunga memoria difensiva che avevo presentato ai tempi e che sembra non essere stata minimamente presa in considerazione dal collegio dei probiviri Praticamente questa riva perché? Ecco questa è la domanda che anche io mi pongo i motivi che vengono riportati facendo un banalissimo copia e incolla dalla comunicazione di avvio del procedimento disciplinare all'esito sono che mi sarei dichiarata indipendente dai lavori del gruppo consigliare cosa che non è mai successa Il gruppo di fatto è praticamente quasi dimezzato perché insieme a lei è stato espulso il consigliere Forello Sì eravamo sei quando è iniziata questa avventura in consiglio comunale ora siamo in tre queste ultime due espulsioni mia e di Ugo Forello non solo portano alla metà i consiglieri comunali ma sicuramente in termini di contenuti visto che eravamo per il movimento rimaniamo nelle due commissioni più importanti di questo consiglio comunale quelle che hanno più che trattano gli argomenti dove il consiglio comunale ha più potere decisionale più possibilità di incidere cioè bilancio e urbanistica quindi non solo sui numeri ma anche sui temi questo gruppo consigliare risulta più che dimezzato Parliamo della vertenza Almaviva Di Maio diserta il vertice nulla di fatto per il piano di salvataggio Luigi Di Maio non si è presentato il piano per salvare Almaviva di fatto non c'è stato il tavolo al ministero del lavoro sulla crisi del call center palermitano che ha annunciato 1600 esuberi a partire dal 9 settembre si è dunque concluso per l'ennesima volta con un nulla di fatto provocando le reazioni di sindacati e opposizione il vice premier Grillino ha disertato l'appuntamento delegando il direttore generale Romolo De Camillis e il consulente Francesco Vanin ancora una volta registriamo un nulla di fatto Di Maio anche questa volta non ha partecipato al tavolo e non è stata individuata una soluzione per scongiurare a fine settembre le procedure di licenziamento per 1600 persone ha commentato il segretario generale della SLC CGL di Palermo Maurizio Rosso Rosso presente con una delegazione di lavoratori Almaviva ha invitato i dirigenti del ministero a chiedere formalmente al ministro Di Maio di bloccare i licenziamenti si fermi questa gara al massacro licenziare è dai responsabili non possono essere sempre i lavoratori a pagare ognuno si faccia carico delle proprie responsabilità al tavolo ha aggiunto Rosso i rappresentanti del Mise hanno chiesto all'azienda di rimandare le procedure di licenziamento e di proseguire con gli ammortizzatori sociali ma Almaviva sostiene che non è più possibile questo governo non riesce a capire qual è il vero problema del mezzogiorno serve un impegno concreto per creare occupazione e non le mance degli ammortizzatori questo settore deve poter vivere e trasformarsi con una politica industriale e con riforme strutturali di cui al tavolo non abbiamo visto traccia stoppa le delocalizzazioni all'estero certezza dei contratti rispetto delle tariffe contrattuali e un fondo strutturale per il settore queste sono le cose che abbiamo ribadito anche oggi il governo prosegue Rosso deve farsi carico di queste azioni ed evitare che a Palermo si spenga un'azienda che dà lavoro a migliaia di persone siamo preoccupati i lavoratori sono arrivati a un livello enorme di esasperazione e il governo davanti a un dramma di queste proporzioni è assente le risposte che attendevamo non sono arrivate venerdì 2 agosto dal Kenya a Palermo con l'eroino nello stomaco e la valigia piena di scarpe contraffatte arrestate in aeroporto a finire in manette un passeggero di origini africane i militari della guardia di finanza di Punta Raisi unitamente funzionari dell'ufficio delle dogane e dei militari dell'arma dei carabinieri hanno portato a termine un'importante operazione nel quadro del contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e della lotta alla contraffazione l'attività congiunta ha portato al ritrovamento di numerosi articoli contraffatti calzature e capi di abbigliamento nel bagaglio di un cittadino di origine africana proveniente dal Kenya via Zurigo in seguita a successive informazioni assunte e rilevato l'atteggiamento e le condizioni del soggetto fermato è sorto il sospetto che lo stesso potesse nascondere all'interno del proprio corpo ovuli contenenti sostanze stupefacenti pertanto il viaggiatore è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso l'azienda ospedaliera di Partinico da cui è stata confermata la presenza di 25 ovuli rivelatisi dall'esame immediato attraverso narcotest contenere eroina per un peso complessivo di circa 350 grammi la sostanza stupefacente e gli articoli contraffatti sono stati sequestrati e il viaggiatore è stato posto in stato di arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria presso il carcere Pagliarelli di Palermo nel periodo estivo le fiamme gialle della compagnia di Punta Rai si hanno implementato il dispositivo di contrasto in ragione del notevole afflusso di viaggiatori presso lo scalero portuale a partire dal mese di giugno i finanzieri hanno effettuato oltre 500 controlli nei confronti dei passeggeri provenienti soprattutto da Francia e Spagna sottoponendo a sequestro oltre 200 dosi di sostanze stupefacenti come hashish marijuana individuate anche grazie all'infallibile fiuto dei cani antidroga complessivamente sono state segnalate alla prefettura 30 persone per detenzione di sostanze stupefacenti 10 soltanto nella settimana appena trascorsa emergenza sangue aperto tutte le domeniche di agosto il centro trasfusionale dell'ospedale Cervello di Palermo sarà aperto tutte le domeniche di agosto il centro trasfusionale dell'ospedale Cervello per accogliere tutti coloro che vorranno donare il sangue proseguono dunque le iniziative dell'azienda Villa Sofia Cervello per trovare una soluzione alla grave carenza di sangue di quest'estate 2019 dopo l'appello delle scorse settimane l'apertura straordinaria di domenica 21 luglio adesso donatori vecchi e nuovi potranno recarsi al centro trasfusionale del Cervello dove opera l'associazione Fratres domenica prossima ma anche domenica 11 domenica 18 e domenica 25 agosto sempre dalle 8 alle 12 e 30 ricordiamo che è comunque possibile donare il sangue anche tutti i giorni da lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e 30 sia al centro trasfusionale del Cervello che a quello di Villa Sofia l'appello e la campagna informativa delle scorse settimane sottolinea il direttore generale Walter Messina ha offerto risultato incoraggianti con un buon aumento delle donazioni ma occorre proseguire su questa strada soprattutto in questo mese di agosto che tradizionalmente è sempre il più critico quindi invito tutti quanti magari prima di andare al mare di andare a donare è un'azione sicura controllata abbastanza rapida e può servire a salvare una vita nell'ambito delle iniziative per incentivare le donazioni l'associazione Fratres sarà inoltre presente domenica 4 agosto a San Cipirello e domenica 25 agosto a Porticello allerta arancione con temperature intorno a 35 gradi brucia la provincia di Palermo incendi da Trabbia a Termini e da Monreale ad Altavilla è iniziato il weekend di caldo annunciato dai meteorologi già da ieri le colonie di Mercurio soprattutto al sud erano salite notevolmente e nella giornata di oggi subiranno un'altra impennata un caldo soffocante che a Palermo ha fatto scattare l'allerta arancione con le temperature che si aggireranno intorno ai 35 gradi nell'entroterra invece ci si attendono 40 gradi secondo il bollettino pubblicato sul sito del Ministero della Salute per la giornata di domani il bollettino prevede il ritorno a livello 1 di preallerta colore giallo con temperatura massima prevista per le ore 14 di 32 gradi è una temperatura percepita di 35 gradi a rischio bambini anziane e donne in gravidanza per i quali si consiglia come avviene sempre in questi casi di rimanere luoghi freschi ed evitare di esporsi nelle ore più calde della giornata e intanto complice del gran caldo brucia la provincia di Palermo con incendi da Trabbia a Termine da Monreale ad Altavilla quello più vasto incontrato a Danigaggi a Trabbia dove le squadre antincendio sono impegnate anche questa mattina il rogo si è steso tanto che è stato richiesto l'intervento dei Canadair gli altri incendi a Termini Merese a San Martino delle Scale incontrato a Renda a Monreale a Partinico a Camporeale incontrato a Val di Bella a Castellana Sicula ad Altavilla Milice incontrato a Costa Grande ad Alia in via Le Kennedy e in via Merico Vespucci a Carini incendi anche a Palermo in via Tindari i vigili del fuoco sono stati impegnati fino a mezzanotte per mettere in sicurezza la motovedetta della guardia costiera andata in fiamme ieri nel mare di Cefalù è tutto grazie per averci seguito e ancora una buona domenica Grazie a tutti